Cara cuccherina, nel nostro video precedente ti abbiamo illustrato i potenziali guadagni che puoi avere inserendo una new seller. Speriamo tu abbia colto che è possibile assicurarsi un introito base di 240€ più bonus aggiuntivi. Tuttavia, al di là dell'importanza di incrementare le tue entrate, vi è un aspetto ancora più cruciale. Fare entrare i new seller ti apre le porte ad un mondo che, benché noto, ti sembrava finora inaccessibile. La collaborazione con una new seller non si limita ad un vero incremento dei guadagni. Essa comporta una serie di vantaggi significativi. 1. Attrai clienti desiderosi di supportarla incrementando le vendite. 2. Questi stessi clienti organizzano il demo per aiutarla, ampliando ulteriormente la tua rete. 3. Semplifica il tuo lavoro. La fiducia delle viena accordata funge da avallo per l'autenticità delle tue parole. 4. I suoi successi contribuiscono ai tuoi, potenziando i tuoi bonus, visto che i suoi fatturati si sommano ai tuoi. 5. Con il suo avanzamento Special Seller Senior acquisirà autonomia nelle vendite, beneficiando anche la tua attività. 6. La possibilità che anche lei inserisca nuove persone nella squadra crea un effetto moltiplicatore sui punti e sui guadagni. 7. Incorporare nuovi membri nel team significa aprire il tuo business a infinite possibilità di crescita. 8. Ricorda, la nostra azienda è nata in una piccola città del sud Italia e oggi, grazie a questo sistema, tu sei parte integrante della nostra squadra. 9. Come sempre, sono stata lieta di aiutarti e ti saluto. 10. Ricorda, la nostra azienda è nata in una piccola città del mondo. 10. Ricorda, la nostra azienda è nata in una piccola città del mondo.